Ecco, noi siamo nella apertura di questo tempo, di questo nuovo anno liturgico, con l'Avvento. L'Avvento parla appunto della venuta del Signore. La prima chiave che liturgicamente dobbiamo sempre sottolineare è questa dimensione del ritorno definitivo del Signore, il ritorno escatologico. Alla fine dei tempi il Signore verrà, come diciamo sempre nel credo, verrà a giudicare i vivi e i morti. Allora, qual è il rischio dell'ascolto di queste parole? Il Vangelo dice fate attenzione, vegliate, non sapete quando sarà il momento, non sapete quando il padrone di casa tornerà. Quello che dico a voi lo dico a tutti, vegliate. Ah, ci mette una certa tensione e noi stiamo con la pressione di non sappiamo quando arriva. Obiettivamente questo è vero sotto molti punti di vista. È vero della fine del mondo, ma è vero pure della visita, che è quel tipo di svolte che il Signore sa dare, che sono tutte visita della sua presenza. Quando Lui nella nostra esistenza si fa presente, cambia qualcosa che stiamo vivendo, dà un impulso, ci viene incontro con cose che succedono e che sono svolte dell'esistenza. momenti in cui Lui ci visita, momenti in cui irrompe nella nostra vita, in tante piccole e grandi maniere Lui lo sa fare. Allora, che cosa noi possiamo trarre da questo testo, da una lettura superficiale di questo testo? Dobbiamo stare attenti, vegliare, stare immersi nella caffeina, perché dobbiamo essere sempre pronti a non farci sfuggire neanche una virgola, perché sennò è un senso di esigenza, di emergenza, di tensione. Ma perché? Ma perché dobbiamo stare così? Perché viene il Signore? Perché tornerà alla fine dei tempi? Perché celebrare l'Avvento? Perché orientarci a questa cosa e tirare un po' le fila della nostra attenzione? La prima lettura dà una bellissima chiave per intendere questa chiamata. Parla di un grido che viene dal popolo di Dio. Siamo nella parte finale del libro del profeta Esaia, nella parte in cui c'è un popolo povero, post-esilico, in una realtà di una terra ripresa, riconquistata, sì, ma in una grande precarietà, in una grande situazione di minoranza rispetto alle potenze esterne e straniere. E dice il profeta, tu, Signore, sei nostro Padre, tu sei il nostro Redentore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie, lasci indurre il nostro cuore, ritorna, ritorna da noi, per amore della tua tribù, vieni ad aiutarmi, vieni ad aiutarmi, Signore, ah, se tu squarciassi i cieli e scendessi. Che bello ricordare quando tu operavi con noi, squarciavi i cieli veramente, facevi cose meravigliose, e Oricchio non ha sentito, Occhio non ha visto, che un Dio fuori di te abbia fatto tanto per chi confida in Lui. Ecco, noi siamo avvizziti come foglie, le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. Allora, qual è la chiave di questa attesa? È che noi abbiamo tanto bisogno di essere visitati dal Signore. Noi abbiamo bisogno che Lui venga, non è una squadra dalla polizia che ci viene a prendere, a cogliere sul fatto, e dobbiamo stare attenti. Non è un ladro il Signore che arrivi e ci prende, è il nostro buon padrone, è colui che ci protegge, è colui che ci fa mangiare, è colui che si prende cura di noi, è colui che governa bene la nostra casa. Attenderlo, senza di Lui cosa siamo? Che cos'è l'uomo quando non veglia più per il suo Signore? Che cos'è l'umanità quando non desidera, pensa come molesta la visita di Dio nella sua propria vita? Pensiamo che cosa è stato il secolo scorso. Il santo Giovanni Paolo II diceva all'inizio del nuovo secolo che cosa è stato il secolo scorso. È un secolo che, aperto nella tronfia affermazione dell'uomo della sua propria autonomia, si è macchiato di tanta disumanizzazione. è stata la storia di una grande perdita di bellezza, l'umiliazione dell'uomo. Tante cose in cui l'uomo afferma la sua propria autonomia si risolvono poi nell'orrore dei campi di concentramento, nell'orrore delle torture, delle popolazioni fatte scappare di qua e di là per le pazzie dei dittatori, cose di cui siamo in questo momento anche testimoni. Allora cosa significa questo? Noi abbiamo bisogno di Dio, abbiamo bisogno che Lui sia al volante della nostra vita. Dice questo profeta, perché ci lasci vagare lontano dalle tue vie? Il nostro cuore si indurisce, non ti temiamo, cioè non ti temiamo per importante. Che cos'è questo tempo dell'avvento che arriva? È il tempo meraviglioso in cui lasciarsi visitare da Dio, lasciarsi trovare da Dio. Lui vuole rompere la nostra vita. Noi abbiamo bisogno di spalancargli la porta. Vieni, Signore, vieni, vieni nella tua casa. È tua la mia casa. Quando l'ho dichiarata mia, l'ho distrutta. Ne ho fatto una spelonca di ladri, ne ho fatto un luogo senza senso, senza bellezza. Quando tu torni, quando vieni da me, io scopro i miei compiti, so cosa devo fare, so qual è il mio servizio. E tu, comunque, quando arrivi, mi sei gradito. Ecco, apriamoci a questo avvento. Leggiamo questo Vangelo in tutta la sua positività. È una bella tensione. È l'arrivo di un ospite gradito. È il ritorno di qualcuno a cui vogliamo bene.